Domani la notizia positiva è che la statale ex 11 verrà riaperta alle 15.30 con 5 giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma, infatti il cronoprogramma prevedeva la riapertura al traffico il 7 di dicembre. E' una notizia positiva, finalmente i disagi verranno meno e una struttura nuova che il sottopasso verrà messo a disposizione dei cittadini trevigliesi. Un sottopasso che rientra nel pacchetto delle iniziative di pianura da scoprire e quindi questo sottopasso permetterà via Caravaggio con via Domminzoni e può essere l'inizio di una riscoperta dei percorsi campestri della nostra città. Quindi un sottopasso che darà una risposta sia ai cittadini che abitano nella zona ma soprattutto diventa una struttura pedonale che verrà messa a disposizione dei cittadini trevigliesi e non solo.